Io voglio ringraziare Verona Fiera per aver voluto scegliere per la prima volta di uscire da Verona e di venire proprio qui in Calabria presso il Parco archeologico di Sibari in una iniziativa che per noi è un'iniziativa di grande interesse, di grande prospettiva ma soprattutto è un'azione che conduciamo per sostenere il settore vitificolo calabrese che è un piccolo settore che in questi anni però ha avuto fortemente l'ambizione della qualità. La nostra terra è ricca, la Calabria è ricca di tutte queste cose appena citate e quindi noi dobbiamo saperle valorizzare ed ecco perché Sibari, ecco perché la strada dell'enologia nasce da lì e noi siamo ben contenti di poter mettere in evidenza tutte queste splendidi tesori che la terra di Calabria ci regala. Tutti sanno che i vini, le cantine sono anche un veicolo di promozione del territorio. Molti luoghi d'Italia sono conosciuti per i vini di quei luoghi. A noi piace l'idea di far conoscere i territori della Calabria, soprattutto più preziosi, più ricchi come la Sibaritide, attraverso il vino. Quindi è una bella iniziativa, sono davvero contento che si sia realizzata in così poco tempo. Grazie.